Questo è l'Oxford Reverb. È un plug-in dotato di molti parametri. È un reverb o stereo in modelli fisici, quindi in una convoluzione, il che permette di avere molto più controllo su ogni singolo aspetto. È possibile creare virtualmente qualunque ambiente e modellare il reverb secondo le proprie necessità. Abbiamo due sezioni indipendenti. La prima si occupa delle early reflection, mentre la seconda si occupa della coda. È possibile miscelare le due sezioni in modo molto naturale. È integrato nel plug-in anche un Oxford EQ, in modo da poter colorare il riverbero a nostro piacimento. Contiene molti più parametri di quanto normalmente richiesto dall'utilizzatore medio, ma in questo modo ci permette di creare ambienti unici, partendo da zero. Diamo un'occhiata ai parametri. Possiamo partire da ambienti di forme differenti, decidere il posizionamento all'interno della stanza, davanti, sul fondo o nel mezzo, la grandezza, la larghezza, la simmetria, ecc. È presente anche un parametro di assorbimento che ci permette di definire la qualità dei materiali e quindi il relativo quantitativo di alte frequenze. Molti sono i parametri che ci permettono di definire e modellare il nostro spazio. Se invece preferiamo partire da spazi preesistenti, è possibile scegliere tra moltissimi preset. Drum room, chiese, eccezionali emulazioni di riverberi hardware come l'EMT o il plate della Lexicon, riverberi vocali e molto altro. Ogni preset può essere utilizzato come punto di partenza per creare ciò che esattamente abbiamo in mente. Andiamo quindi ad ascoltare il Oxford Reverb su una traccia vocale. In questo caso abbiamo un ambiente piccolo e raccolto che modella uno spazio molto naturale attorno alla voce della cantante. Questo è probabilmente uno dei punti di forza del Oxford Reverb e cioè la capacità di ricreare piccoli ambienti dal suono trasparente e molto naturale. Senza bisogno di lunghi tempi di riverberazione possiamo vestire perfettamente la voce così come possiamo ascoltare in questo caso. Non abbiamo molto riverbero qui ma se andiamo a disattivarlo la differenza è evidente. Completamente dry, come in studio ma se riattiviamo il riverbero ci rendiamo conto di come suoni realistico il piccolo ambiente ricreato. Naturalmente possiamo anche ricreare i riverberi molto lunghi ed ascoltarne solo la coda o solo le prime riflessioni. Possiamo decidere la forma della stanza. Possiamo posizionare il suono davanti o al fondo della stanza ed in questo caso stiamo lavorando solo con le prime riflessioni. Possiamo incrementare il parametro di assorbimento della stanza come se ponessimo all'interno tende e tappeti oppure creare una stanza in pietra completamente vuota o ancora miscelare le prime riflessioni con la coda per ottenere un suono ancora più realistico. E non dimentichiamoci dell'EQ. Se vogliamo ottenere un riverbero molto brillante possiamo aggiungere un po' di alte frequenze. Esageriamo un po'. Possiamo quindi modellare lo spazio a nostro piacimento. O come detto prima possiamo partire da un preset che riteniamo interessante. Ascoltiamone qualcuno. Chamber, large vocal o possiamo scegliere tra diverse emulazioni. Proviamone una. Ci sono anche preset per la post-produzione come per esempio questa radio Philips degli anni 70. Un corridoio, una stanza letto. Ed in questo preset è evidente l'utilizzo intensivo dell'equalizzatore per conseguire l'effetto desiderato. L'altoparlante all'interno di una fabbrica. Una piscina. Eccetera. Come abbiamo ascoltato, l'Oxford Reverb è un plugin molto versatile, egualmente efficace in applicazioni musicali e di post-produzione. In chiusura possiamo riassumere che l'Oxford Reverb è un reverb rosterio a modelli fisici estremamente flessibile, con un controllo totale sui suoi numerosi parametri. Un controllo indipendente delle prime riflessioni e della coda, un equalizzatore integrato a 5 bande ed oltre 100 preziosissimi preset utilizzabili in applicazioni musicali e di post-produzione. Grazie a tutti.